E' stata presentata questa mattina alla presenza dei parlamentari e dei consiglieri regionali del partito Fratelli d'Italia la candidatura di Salvatore Sasso De Idda alle prossime elezioni del Parlamento europeo che si svolgeranno l'8 e il 9 giugno. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto la mia candidatura proprio per spiegare sia in Sardegna che in Sicilia quello che abbiamo fatto in questi mesi in Parlamento, che è una rimedicazione che dobbiamo portare in Europa, che abbiamo portato in Europa e la battaglia che ci unisce alla Sicilia è quella di far cambiare la normativa europea proprio sulla continuità territoriale. Tra le priorità di De Idda, parlamentare e presidente della Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, la continuità territoriale e la modifica della normativa sull'ETS che causa rincari sul trasporto aereo e marittimo. Includere Sardegna e Sicilia in quella normativa che riguarda le isole ultraperiferiche che ci permetterà poi di concordare meglio e trattare meglio con le compagnie aeree soprattutto perché nei mesi invernali non c'è quella concorrenza che l'Europa invece ci impone ma dobbiamo invece avere la possibilità di intervenire in materia fiscale e anche in materia di contrattazione proprio perché quando non c'è un surplus di traffico nelle isole noi dobbiamo poter applicare altri criteri. Nel trasporto marittimo dobbiamo eliminare quella normativa che riguarda la tassazione per l'abbattimento della CO2 che è una nuova tassa imposta agli armatori che ovviamente poi ricade nei cittadini e negli autotrasportatori o nelle imprese che stanno denunciando come il traffico da e per la Sardegna sta subendo troppi rincari. Grazie 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 Grazie